Per l'ultima puntata della rubrica sui grandi fotografi, oggi parliamo di Peter Lindbergh. Ho scelto Lindbergh per finire questo percorso sui grandi fotografi perché indiscutibilmente è il fotografo di moda che amo di più al mondo. Questo libro si chiama Una differente visione della fotografia di moda ed è il catalogo di una mostra che ho visto a Torino due o tre anni fa. Mai titolo fu più adatto. Per quanto mi riguarda, Lindbergh è sicuramente il fotografo di moda più originale dell'ultimo secolo. Colui che è riuscito a fare degli scatti pazzeschi dando tutt'altro che l'effetto del patinato, regalando a questi scatti una naturalezza una morbidezza e una spontaneità inarrivabili. Lindbergh nasce in Germania nel 1948, studia arte e nel 78 si trasferisce a Parigi. Da lì l'Escalation, fotografa per le più grandi testate giornalistiche di moda, Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar eccetera eccetera. Lo consacrerà col suo occhio speciale nello scegliere i visi, tant'è che sarà il mentore e il talent scout delle più grandi modelle che noi conosciamo come tali e racconterà questi visi e questi corpi con una poetica assolutamente lontana dalla durezza e dall'impatto forte delle foto di moda a cui siamo stati abituati. Tutti i suoi scatti giocano sul contrasto tra il bianco e il nero, assolutamente, è già qui una forte innovazione per la fotografia di moda. Ama molto le ambientazioni esterne, quindi non è un fotografo che teme di uscire dal set. Non è un fotografo che teme l'uso o la contaminazione della luce naturale nelle sue forme. È un fotografo talmente consapevole delle proprie capacità tecniche e delle proprie capacità artistiche che usa tutto quello che gli capita nell'ambiente e sa dosare la luce contingente e quella artificiale. I suoi scatti sono sempre raffinati, eleganti, non ovvi, sempre giocati quindi su un bianco e nero così delicato che un occhio non esperto pensa sia solo luce naturale. Lindbergh faceva montare, perché purtroppo è venuto a mancare da poco tempo, faceva montare dei set pazzeschi in location come la spiaggia o la foresta o le dune, degli impianti di luce molto complicati per ottenere alla fine un effetto naturale. Praticamente è un percorso inverso rispetto a tutto quello che i suoi colleghi facevano. Finora siamo stati abituati a vedere una moda squillante, dei colori molto decisi, delle pose assolutamente plastiche studiate, dei capelli perfetti non scompigliati dal vento. Ecco Lindbergh vuole tutt'altro, cerca la naturalezza laddove lui deve fare comunque una fotografia commerciale, ma fa della fotografia commerciale un racconto armonico, perché scorrere un libro di Lindbergh di centinaia di set diversi vuol dire guardare sempre una storia che stia bene con la precedente e con la successiva. È sicuramente un osservatore, un amante dei visi, un amante delle donne nella loro naturalezza. Anche il make up che lui richiede per le sue modelle non è mai eccessivo, è il più nature possibile e sceglie sempre dei visi particolari, non ovvi. È lui che ha scoperto Kate Moss e Kate Moss è una bellezza diversa da quelle che c'erano state fino a quel momento, dei lineamenti abbastanza spigolosi, anche un po' irregolari. L'altra particolarità di Lindbergh è che molto spesso il set diventa set, vuol dire che lui usa l'impianto luci o i prots necessari per l'allestimento del set come set. Questo avviene a cavallo tra la naturalezza e lo studiato. Quando le modelle erano in pausa e si muovevano e allora lui scattava o quando lui chiedeva alla modella di spostarsi dal set alle quinte o ad altre zone della scena. Era un uomo che studiava tanto l'effetto che voleva avere ma poi quando era lì sul set voleva assolutamente affidarsi al suo istinto. La mostra che hanno realizzato in Italia per lui è stata davvero eccezionale. Questo catalogo è uno dei pochi casi in cui il catalogo è quasi all'altezza dell'esposizione, che raccoglie davvero tutti gli scatti e che racconta l'eccezionalità di quell'uomo. Lindbergh ha reso un tributo importante alla fotografia di moda. L'ha umanizzata pur usando delle bellezze stratosferiche. Era sicuramente un fotografo che sceglieva meticolosamente i suoi soggetti, non lasciava nulla al caso. Eppure ha reso la fotografia di moda umana come se tutto fosse nato abbastanza per caso o con una certa naturalezza. Per avvicinare di più la fotografia alle persone, le modelle alle persone, per mischiare gli ambienti, per confondere le carte e anche per fare dei racconti diversi. Perché poi ogni fotografo dovrebbe augurarsi questo, di riuscire a fare un racconto diverso di quello che ci è già stato. Naomi, la vediamo anche qui, è sempre una pantera amatissima da tutti i più grandi fotografi. Non c'è nessuno al mondo che non vorrebbe fotografare Naomi Campbell. Lui studiava i set come se fossero dei set cinematografici. Alla fine non era solo lo scatto che gli importava, era il raccordo tra le immagini. Quindi in realtà l'impianto scenico era molto ambizioso, alla sua altezza naturalmente, e al limite del limbo tra la foto e il cinema. Sono dei micro racconti e ti mi è voglia quando guardi le foto di Lindbergh di sapere che sta succedendo, che sta guardando, cosa succede dopo. E quella non è mai solo fotografia. Quando una foto ti pone delle domande non è mai solo fotografia. Con lui, io credo sia andata via la parte più originale e artistica dell'attuale fotografia. Adesso, visto che è l'ultima puntata, se mi permettete, dirò la mia. La fotografia di moda è diventata qualcosa di abbastanza complicato adesso, perché in tantissimi la fanno, ma in pochissimi la fanno davvero. C'è Gian Paolo Sgura, che è un nostro connazionale che sta facendo qualcosa di eccezionale in America e in tutto il mondo, ma davvero in pochi, davvero davvero in pochi hanno raggiunto il livello che ha raggiunto Lindbergh. Il libro è immenso. Io vorrei, se siete degli appassionati, se vi piace la moda o vi piace la bella fotografia o vi piace il bianco e il nero, regalatevi questo libro, perché è veramente da sfogliare pagina per pagina. Non è solo moda, c'è tanta ritrattistica, ci sono i personaggi che lui ha amato di più. Visti sempre con quella peel dal gusto glam, perché quelle sono cose congenite, perché un fotografo o ha quell'occhio lì o non ce l'ha e se ce l'ha fotograferà chiunque, sempre con quel sapore così un po' mistico e inarrivabile. Io spero che organizzino presto, appena possibile, delle altre retrospettive su Lindbergh, perché veramente ha dato tanto e credo che tutti i fotografi dovrebbero guardare quello che lui ha fatto, per staccarsi dal compitino ben fatto, dalla strada facile, dalla comfort zone della fotografia. Non c'è il colore e la color correction a omologare tutto, a rendere vivace o accattivante per l'occhio. C'è la scelta del bianco e nero che è coraggiosa per la fotografia di moda, perché se non viene ben fatta diventa piatta, diventa cupa, diventa poco narrativa. E invece guardate che cos'è, che cos'è la fotografia di Lindbergh. Sono assolutamente di parte oggi, ma me lo concedo perché l'ultima puntata io volevo chiudere con lui. Non sto sfogliando neanche immagine per immagine perché vorrei che voi lo prendesse questo libro. È assolutamente uno di quei volumi da conservare. Qualunque sia il genere di fotografia che vi appassiona, ma lui è stato un grande. E la cosa più bella è leggere quanto siano assolutamente rimaste legate a lui le modelle che hanno lavorato con lui. Quanto si sia creato sia sul set che fuori dal set quel legame forte, affettivo, che ha fatto sì che Lindbergh quando è andato via sia stata una perdita artistica, ma soprattutto umana. Ed è sempre bello questo risvolto perché alle volte quando si parla di fotografia, di fotografi, di modelle, si immagina un mondo turbinante, e lo è. Dei rapporti molto veloci, effettivamente è così. È sempre quell'atteggiamento del fotografo nei confronti della modella, un po' di utilizzo dell'immagine e basta. Nel caso di Lindbergh tutti dicono che non sia stato così. Tutti dicono che gli shooting con Lindbergh erano delle esperienze proprio di vita, che era emotivamente bello farli, che era bello essere lì sul set, che lui era un galante, che era dolcissimo con le donne che aveva sul set, e che si tornava a casa la sera con un'esperienza bella in più. E non è sempre così nella fotografia, e non è sempre così per le modelle. Il nostro percorso finisce qui. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi per tutte queste puntate. Non abbiamo idea se questa rubrica riprenderà dopo la pausa estiva, o arriverà altro di nuovo, ve lo sapremo dire più in là sui nostri canali. Io personalmente però voglio ringraziarvi perché riguardare insieme a voi questi libri mi ha permesso di fare un ripasso e un riepilogo dei fotografi che amo di più e che hanno contribuito a far diventare la mia passione un lavoro. Per cui vi ringraziamo tutti, vi auguriamo una buona estate, con Pastel continueremo a star con voi in altra maniera in questi mesi estivi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!